Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. L'argomento sono i grattacieli di Milano, quelli in costruzione e quelli progettati. Per grattacieli intendo gli edifici che hanno almeno 100 metri d'altezza, perché questa è la definizione di grattacielo, solo quelli che appunto raggiungono i 100 metri. Partiamo da quello più alto, che è la Torre Faro, che sarà la futura sede di A2A, che è in costruzione nello Scala Romana. I lavori veri e propri sono partiti all'inizio di quest'anno. Sarà un edificio a forma tubolare con esterno in vetro, avrà una spaccatura a circa metà, a 60 metri d'altezza, con uno Sky Garden accessibile ai cittadini e anche all'ultimo piano, anzi agli ultimi tre piani, quindi da circa 125 metri d'altezza, è previsto un bel vedere panoramico, sempre aperto la cittadinanza, appunto per vedere dall'alto tutta la città. I piani sono 28, mentre la costruzione dovrebbe terminare in teoria nell'anno delle Olimpiadi, non si sa ancora se riusciranno a rispettare, cioè ci sono molti dubbi, la scadenza delle Olimpiadi veri e proprie, quindi all'inizio del 2026, però diciamo che proveranno in tutti i modi, anche perché nel complesso è prevista una riqualificazione di tutta la via Crema, che arriva poi fino di fatto alla Viale Sabotino, con anche il sagrato della chiesa di Sant'Andrea, prevista entro il 2026 sicuramente la parte che affaccia poi sulla Torre Faro e che si dirige verso il sagrato della chiesa. Scendiamo di un paio di decine di metri e andiamo in Porta Nuova, dove ormai è ultimata la Torre Unipol, meglio conosciuta come Nido Verticale, per la sua struttura e la sua forma che richiama un nido però appunto messo in verticale e dovrebbe essere consegnato entro l'estate a Unipol Sai e in questo caso l'altezza è di 125 metri, i piani sono circa 23 e sempre alla sommità dovrebbe esserci presente all'interno di una serra chiamata Sky Garden un lounge bar ristorante. Potrebbe essere il primo ristorante in vetta a un grattacielo a Milano, visto che al momento l'unico in alto non è all'interno di un grattacielo che è il Mi View perché arriva a 78 metri e quindi questo sarebbe il primo vero e proprio ristorante all'interno, anzi sulla sommità di un grattacielo che a Milano nonostante abbia il record di grattacieli in Italia, 7 della Totten sono i più alti in Italia però ancora non c'è un ristorante in cima. Scendiamo ancora un po' e arriviamo alla Torre Sistema o Palazzo Sistema. Questo è stato progettato, non è ancora partita la costruzione e sarà alto 122 metri e 50 per 26 piani, sarà il terzo edificio di Regione Lombardia che accorperà diversi uffici dislocati nella zona tra via Pola, via Rossellini, via Taramelli e via Badesse, tra la stazione centrale Porta Nuova e prevede nel corpo più basso dell'edificio che sarà orizzontale un tetto con giardini pensili. Si attende quest'anno la gara di appalto per poi procedere ai lavori probabilmente entro la fine di quest'anno o al massimo all'inizio del 2025, la durata dei lavori è stimata in circa 2-3 anni. Passiamo poi al City Wave a City Life, è il quarto grattacielo del quartiere che ha preso il posto del Polo Fioristico di Milano, quindi dopo le tre torri, City Wave farà da quinta ai tre grattacieli per chi arriverà alla Modossola ed è già stato soprannominato il grattacielo sdraiato, perché? Perché si compone di due edifici, uno di 50 metri di altezza dove sarà presente un hotel e un altro di 110 metri di altezza, uniti da un lungo portico di 140 metri. Sarà l'edificio con la massima copertura di pannelli fotovoltaici di Milano. I lavori sono già partiti e sono già stati costituiti piani sotterranei e poi si procederà alla costruzione, si sta procedendo una costruzione poi vera e propria dal piano terra in su e anche qui l'orizzonte è sempre il 2026, vedremo se si riuscirà a rispettare. Poi passiamo al quinto grattacielo che si chiama Zetris in zona Barona. Qui diciamo siamo un po' al limite delle definizioni del grattacielo perché in realtà si superano di poco più 100 metri contando i vani degli ascensori, quindi la parte sommitale dell'ascensore, del corpo in cui però non arriva l'ascensore, mentre al piano calpestato, al tetto, siamo a 96 metri. In questo caso l'edificio è costruito da tre moduli intervallati da tre spazi tra i diversi blocchi di piani e ormai è arrivato a due terzi della costruzione, quindi potrebbe essere terminato nel 2025. Passiamo poi e ritorniamo a Porta Nuova. A Porta Nuova anche qui adesso non siamo più nell'ambito dei grattacieli ma siamo lì, quindi siamo un po' sotto. Parlo dei due portali che sono in costruzione avanzata, dovrebbero essere conclusi tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo e che sono all'incrocio con via Melchiorre Gioia dopo il Pirellino, quindi dopo il parco della BAM, uno davanti alla scheggia che è l'ultimo grattacielo inaugurato nella zona prima e l'edificio che si può avvicinare alla definizione di grattacielo è il Gioia Est che è alto 98 metri, si trova appunto sulla destra. Anche qui fa la quinta lui insieme all'altro edificio che è il gemellino più piccolo di 64 metri. Poi scendiamo ancora di qualche metro, sempre comunque sopra i 90 metri e parliamo dell'edificio che prenderà posto del demolito hotel Michelangelo in zona stazione centrale sul lato, guardando la stazione centrale sulla destra. In questo caso ci sarà una coppia di edifici affiancati di cui il più alto arriverà a 94 metri e mezzo per 17 piani. In questo caso è stato appunto demolito alla fine del 2023 e quindi in teoria nei prossimi mesi potrebbe iniziare la fase di bonifica e di scavo per andare sotto per costruire i piani interrati e la costruzione vera e propria potrebbe cominciare da dopo l'estate. Arriviamo a progetti che sono ancora in stand by, si dovrebbero fare però ancora c'è qualche dubbio perché in questo caso parlo della torre botanica del Pirellino. Quindi rimaniamo sempre, in questo caso ritorniamo in zona Porta Nuova. Il Pirellino per intende c'è quell'edificio con quel ponte a scavalco che si trova a destra della BAM stando su Melchiorre Gioia e a sinistra della sede dell'Inter di Versace. Il Pirellino che rientra in un oggetto più ampio verrà riqualificato e alzato portato fino a 95 metri con una terrazza panoramica. Insieme a questo, insieme alla riqualificazione, è prevista anche la costruzione di un oggetto da cielo, in questo caso perché sarà di 110 metri, chiamata la torre botanica perché sarà interamente ricoperta dalla vegetazione, diciamo ancora di più rispetto al bosco verticale e raffigurerà tutti i cambi di stagione con 1.700 metri quadri di vegetazione, come vedete poi nelle immagini sempre che vi metto qua a fianco o sopra la mia. A corredo del progetto l'attore botanica affiancherà il Pirellino e sarà unito da quello che è l'attuale ponte a scavalco, dovrebbe essere una serra botanica, una serra d'inverno, quindi un ponte serra che con funzione di hub per eventi e mostre e comunque spazi aperti alla cittadinanza. Inizialmente con la bocciatura da parte del Comune di Milano per l'eccesso di volumetria in base alla propria legge e poi la successiva Vittoria Altar da parte di chi ha presentato il progetto sembra far ritornare la possibilità che ci sia questo ponte, questo ponte serra che era la parte pubblica del progetto, sicuramente la torre botanica e il Pirellino ci saranno per il ponte serra potrebbe esserci ma ancora non si la conferma e il progetto che in teoria dovrà svilupparsi e concludersi entro il 2026 andrà posticipato sicuramente più avanti quindi questo è l'unico indubbio. Quindi tanti grattaceni in costruzione, lo skyline di Milano che si arricchisce ancora e per altri aggiornamenti su come va avanti la costruzione di grattacieli ci vedremo nei prossimi video. Nei link in descrizione vi lascio gli approfondimenti per tutti i progetti di cui vi ho parlato e anche di altri più piccoli cantieri sempre riguardanti gli edifici di Milano. Come al solito se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.